Nel video di oggi vedremo quanto è semplice estrarre il rame dai fili semplicemente costruendo una piccolissima macchina come questa che potete vedere che è in grado di estrarre il filo semplicemente tirando come potete vedere in queste immagini. I materiali che ci occorrono sono ovviamente un filo di rame, un pezzo di legno, un cutter, due viti e un trapano. Come prima cosa andremo a estrarre la lama dal nostro cutter. Andiamo quindi con il nostro trapano a creare un buco del diametro leggermente più grande del nostro pezzo di legno in modo tale che il filo di rame potrà passare senza problemi. Andiamo quindi in posizione la lama che abbiamo ricavato dal cutter battendola con pochi colpi. Avvitiamo quindi le viti in modo tale che sia stabile e fissa. Quindi ora semplicemente inserendo il filo di rame all'interno del buco e tirando riusciremo a creare una piccola scanalatura sul filo grazie alla lama del cutter che ci permetterà di aprire ed estrarre il rame in questo modo. Grazie a tutti.